Il 17 maggio a Torino, al centro congressi Torino Incontra, si è svolto il workshop di infoprogetto Involucro edilizio, facciate, infissi, porte e grandi strutture, organizzato da Action Group, con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti e della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino. Un momento arricchito da prestigiose interventi, dedicato all'aggiornamento e alla formazione dei progettisti, che hanno avuto l'opportunità di conoscere gli ultimi prodotti delle aziende presenti agli incontri. Noi presentiamo due prodotti che sono già esistenti da diversi anni, che hanno però ottenuto una certificazione nell'ambito di Casa Clima, hanno ottenuto la certificazione finestra qualità nella massima classe, la Gold, quindi prodotti per case passive, prodotti per case a bassissimo consumo. Non solo il prodotto, anche il sistema, cioè il sistema di posa, quindi la cura di quello che sono l'inserimento dei seramenti all'interno dell'involucro edilizio. Noi siamo un'azienda che opera da 40 anni nell'ambito di seramenti in legno. Da 10 anni a questa parte facciamo anche il seramento misto, cioè legno rivestito in alluminio, oppure prodotti intermezzi come legno, poliuretano, alluminio, che vanno ad aumentare il discorso di isolamento. La partnership con Casa Clima ci ha permesso a livello formativo di ampliare le nostre conoscenze, anche perché noi ci occupiamo di seramenti, mentre Casa Clima mette a disposizione tutta una serie di strumenti, di conoscenze che vanno oltre al seramento, è quello che dicevo prima, per cui tutto quello che gira attorno al seramento, il controtelaio, il muro e quant'altro ci permette di entrare in sintonia con il progettista, quindi con l'utente finale nel caso che ha l'esigenza di costruire una casa con dell'ottima efficienza energetica.